il 28 aprile 2019 a torino presso il cinema massimo torna il più antico festival sui temi lgbtqi ovvero lesbiche gay bisessuali trans queer e intersessuali d'europa e terzo del mondo diretto da irene dionisio con la consulenza artistica di giovanni minerba fondatore con ottavio mei del festival il lover film festival e anche nel 2019 all'insegna di uno spirito cinefilo militante pop e si concentrerà sul tema della visibilità lgbt attraverso i concorsi cinematografici di eventi speciali e collaterali madrina dell'edizione di quest'anno e l'attrice alba rocker nota alla grande pubblico per aver recitato in alcuni tra i più importanti film degli ultimi anni nel panorama cinematografico italiano pluripremiata ha vinto fra gli altri la coppa volpi per la migliore interpretazione femminile alla mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia due devi di donatello un nastro d'argento e due globi d'oro ospiti di onore della festival sono due volti conici del cinema internazionale helmut berger l'attore più amato da lucchino visconti e giancarlo giannini uno fra i più poliedrici interpreti del cinema italiano che nella sua lunga carriera costellata di successi sia anche dedicato al doppiaggio alla regia e alla scrittura ospite atteso sarà anche ira saxe regista neuerchese di fama internazionale consulente creativo per sundance director lab e professore alla colombia university school of film i suoi film sono stati proiettati a berlino toronto new york rotterdam e londra e nei maggiori festival lgbtqi mondiali ha vinto nel 2005 con 40 shots of blue il grand prix della giuria al sundance film festival asia argento antologia analogica è il titolo di una esposizione che ha come protagonista asia argento fotografa la mostra a cura di stefano jacchetti organizzata dal museo nazionale del cinema come evento collaterale del 34esimo lover film festival conosciuta dal grande pubblico come attrice regista e meno nota nelle vesti di fotografa anche se ha pubblicato le sue immagini in importanti riviste nazionali e internazionali con questa mostra offre al pubblico una parte del suo mondo attraverso autoritratti volti suggestioni colori ed elaborazioni grafiche e giovanni minerba fondatore con ottavio mai della rassegna e consulente scientifico dell'edizione di quest'anno a curare la serata spettacolo di chiusura sul cinema lgbt con monica guerritore e per il secondo anno consecutivo una sua carte blanche assolutamente innovativa come di tradizione lover non ha come protagonista solo il grande cinema internazionale ma anche la musica infatti l'ospite della più famosa rassegna cinematografica d'italia è stato samuel volto storico dei subsonica drusilla foer fenomeno virale del web e icona internazionale di stile e mischetta controversa misteriosa e provocatori a star della musica elettronica young famosa anche per calcare la scena mascherata nel 2019 sul tema della visibilità come resistenza e come vulnerabilità è prevista una iniziativa speciale nata in seguito alla collaborazione avvenuta a partire dalla 32esima edizione con le associazioni lgbtqi del territorio festival quest'anno è dedicato a martì marta gianello guida rino manfredi max croce e a caldo pigiette vieni bene 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 Grazie a tutti